Meraviglioso Meraviglioso Molto bello Cosa ti è piaciuto di più? Beh, tutti e due gli episodi Quello di Carlo Verdone divertentissimo E poi lui nesce come personaggio eccezionale Mi è piaciuto Com'è andata? Devo dire che quando poi si parla di italiani A volte ci si ferma a riflettere Quindi dai vizi alle virtù Sai cosa mi veniva in mente? Che in fondo ai italiani brava gente funziona ancora In fondo a volte ma può funzionare Ma secondo lei siamo veramente un popolo Che poi andiamo all'estero e andiamo a cercare le donnine? Succede anche a questo Grazie Prespo Piacere siamo di RB Casting Lei ha fatto un cameo Un ruolo particolare Cosa ne pensa? Gli è piaciuto? Mi è piaciuto moltissimo È un bellissimo film Molto ispirato Molto fatto col cuore Con degli attori straordinari È un bravissimo Un bravo regista C'è Il gran voto a Veronese Ah ma sì sicuro Io spero che Poi arriva in un momento giusto Speriamo che vada molto bene Un film pieno di speranza Sì 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 Buonanotte maestro Grazie Grazie Come siete vestite questa sera? Cosa avete? Avete qualcosa di marca per essere qui? Direi di no Niente Una cosa semplice Dove andate adesso a festeggiare questa prima? Non credo che festeggeremo Buonanotte Grazie Ciao Dario Buona gana Buona gana Buona gana Buona gana Buona gana Ok quindi è posto il film no? La Strung Brembole il film Eh sì È una seragoria In una casa nel topoloso Lo scavano troppi Di anche l'arrestito Anche prima Perché era stato letto Di accendere lo spegno Nel momento in cui si usciva Io non credo Credo che Nel caraventato Nella bottiglia E non Non Ma è meglio dirlo Ah Capito Buonanotte Buonasera Buonasera Shul Veronesi Com'è andata allora? Com'è stata? Giornata piena oggi Beh piena Per forza È uscito il film È uscito il film Stamattina Oggi Con prezza stampa È andata bene Sì Con meno entusiasmo Come lo dice? Ma è andata benissimo È andata bene Ma insomma Domani Milano Domani Milano Domani Milano Questi occhi fantastici Ci hanno regalato qualcosa di stretto Ma non devi dirlo Praticamente Non si può dire Noi vi auguriamo una buonanotte Ciao Ma se io adesso mi lancio Mi prendi tipo ballerina Ciao Giuliano Oh Ci vediamo Ci devi vedere No Buonanotte Si spengono le luci Buonanotte È andata bene Domani Milano Mi raccomando In forma Non vai Ma porca Ciao Torna presto E tocca darsi da fare Tu porti via quelli Allora Perfetto La luci di un mattino La luci di un mattino Meraviglioso Meraviglioso No 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 No